Hey, nothing you can say, because he's gonna drain what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take one man Quando ti fanno, quando ti chiede, quando ti dicono iscrittori cambi che non si iscrivono mai, quindi stai attento a loro Oppure si iscrivono e poi dopo due giorni si disiscrivono Dopo due giorni si disiscrivono, esatto, è inutile La crew Matteo adesso al momento non stiamo prendendo più nessuno, vediamo un po' se poi decidiamo di aprirla di nuovo Arrivo, arrivo Sono solo Ecco, ci sono anche io Anche sono morto però, almeno l'abbiamo conquistato Comunque quando salta il Road Dogg non sembra così pesante Eh no eh Giro del giro Jerry tu quando hai l'ultra dimma no? Sì sì Sono al 93% Sì non fatemi morire a me però Ma vaffanculo Non l'ho proprio visto arrivare La vaffanculo sto stonte è riuscita è riuscita a farmela fuori Dai usa l'ultra Aiuto aiuto Oh Ho fatto la quadrupa, grazie Andrea Andrea Niente Oh ci siamo uccisi a vicenda Devi entrare Eh no Ciao Gabone Eccolo qua il nostro Gabo No eh Grazie Andrea però Perché hai visto Alcune persone sono inattive Quindi sto sempre senza Italia è inattiva al momento Vediamo li tiro qua non possono saltare Sì sì Fra non ci sta Quindi alla fine siete tre di moderatori Raga No C'è chi è nato alla grande Chi è che sta cecchinando Cazzozzo Unito Fatemi prendere la cura Rai metto di nuovo la così di trascino giù Giusto Gabo giusto Oh No dai Quel cavolo di Genchi Dove sei? Fatemi scappare Io sono morto Oh cazzo C'è la loro Widowmaker Spara veramente a cazzo Stai ripetendo Boh raga Mi fa un cazzo Ma non mi funziona Cioè mi uccidono Eh l'ho dovuto dare per entrare Perché se no Avevano già perso No non ti preoccupare Non lo so Ma chi è il cecchino? Chi è? È il Widow È quello con il Widowmaker Mi sta ammazzando sempre Mi hanno accerchiato Genchi E il Tracer Dimmi tu che potevo fare Se tutti si nascondono dal cecchino E non intervengo Eh lo so Abbiamo un primo io E sto giocando malissimo oggi raga Sono troppo distratto Eh anche io Mi sono perso due partite Per colpa di quei Di quegli imbecilli Eh vabbè Ah ci sono io Oddio Ebbè sarà La ultradiana Eccola qua Eccola qua Non era qua Ho continuato Vedete Mi ha fatti farli tutti No è che ora Non sono con il computer Purtroppo Bella Dove stanno? Stanno cercando di flancarci? No è già morta Quella che ha flancato Ok Ma non hai Le uccisioni Tu in alto a destra? No Perché? Boh No devi metterle È utilissimo Saperlo Ma come si mettono? Non so Io ce l'ho già E basta Ehi Black Vabbè Siamo dietro a sta stronza Di fara Che non si piglia Oh Vengo a curarvi Resistete E dove state? E riesco a prenderlo Reaper dov'è? Tu sei Reaper Andrea? No io sono Una simmetria che era di fianco a te Ah ok Cioè un Reaper che cercava di passare dall'altro lato E il problema è che c'è ancora questa fara Guarda là Eh raga Oh 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 C'è fara Cioè mi ha Uccisa con due Due bombette Chi c'è qua dietro? Dove sta qua il portale? È in alto È in alto Fatemi curare i miei picciotti qui Ancora con la fara è passata Mi ricontinuo a distruggere tutto Black Comunque mi devi ancora dire Quando ci sei per diablo Eh No Ero Sei so Non Ah Ero Ta Ha Ti 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 No ma non ci hanno distrutto il telebarco Ce l'hanno distrutta? Sono una serie di dieci che intanto No il mirino Vai 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 Si ma tu con trascendenza Vieni qua Vieni qui Sennò moriamo tutti Eh l'ho usato dove stavano tutti veramente No Si diavolo si può giocare online fino a 4 persone insieme Arrivo 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 Bella Reaper Bisogna di cura Dove sei dove sei? Ce l'ho lanciata Adesso Dovresti averla Si si Ok ok Sono 13-1 cavolo Eh allora vabbè aspettiamo allora Black Mannaggia Oggi è programmato Heroes of the Storm C'è ancora quella stronza Oh 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 Occhio raga Mi sto ammazzando Grazie anche io ti penserò Black Intanto allora ne approfitto per farmi qualche altro livello su Su diavolo Yeah Abbiamo vinto Finalmente Mazzà 17-1 con 6 metri Oh c'è Genji sopra Occhio Oh madonna mia ma dove stava questo ma voi l'avete visto io no Cioè guarda lì continuava a tirare guarda mi mancava pure ma che cazzo ma vaffanculo l'ho proprio visto Aiuto son circondato Ah no è sceso Ok Curati curati bello Eh vabbè Guarda là ma come mi ha ucciso Guarda là raga Guarda là Cioè dai su La roba da matti Cazzo mi è morta la 3 Ok 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 Ammazzati tutti Sentiamo dopo Perché lo sta conquistando Contested Ok Preso C'è Genji ancora sopra Io non lo posso prendere Ok Ok vattene via Dopo dove devi mettere comunque la Per forza le uccisioni perché sono importantissime Dopo vediamo come si mettono Ma non ho capito è un'impostazione Non lo so io ce l'avevo dall'inizio quindi Ma in alto dove? In alto a destra ti dovrebbero comparire tutte le uccisioni fatte da tutta la squadra e anche dai nemici Ma a comparsa o scompaio? Sono fisse A comparsa Sì Mi rimangono sempre 3 più o meno Le ultime 3 Poi dopo 3 secondi 5 scompaio Ma non le ho notate neanche sui tuoi video queste uccisioni Dani Allora Overwatch in teoria lo portiamo solo il lunedì e il giovedì Vai Genji eliminali tutti Oh madonna mia però Non l'ho visto proprio sbucare questo Ciao Fabio Che talle raga oh Cazzo serie di 13 anche comodo Beh sì effettivamente Si è andato dietro a un muro Grazie merci Merci seguimi che ho l'ultra dai È andata merci ma no Luca sono su playstation 4 ti ho detto che non sono al pc Come faccio a sentirti Non mi senti quando ti parlo? Avete problemi con l'audio raga? No perché a volte si blocca visto mai Magari dico le cose e non mi sentite Grande Non ci capisco niente io In quel casino di ultra che c'era prima avrò colpito 10.000 volte E non è possibile E non è possibile Eh vabbè Ah non mi senti Ti dispiace Mi ha fatto una ragione Ma non sono su discord Ma non sono su discord Arrivo raga Per quel che può servire Sì sì vieni 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 che stiamo prendendo Oh ne uccisi due Bella Ottimo L'aveva provato Anzo È un po' in ritardo Bello che ci ha dato l'uccisione Che ci ha dato l'uccisione